Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Grazie alla sinergia di enti come il BIM e la Fondazione Tercas, insieme all'attenta supervisione del Comune, rivive per il secondo anno consecutivo Castelli Residenza d'Artista, dal 31 luglio al 6 agosto all'interno del Borgo della Ceramica. È un progetto che è partito l'anno scorso e che vogliamo proseguare nei prossimi anni, perché si tratta proprio di un processo di rigenerazione sociale e culturale del Borgo, e quindi nasce nella comunità di Castelli. Quest'anno partiamo il 31 luglio con delle residenze artistiche, quindi avremo Davide Rasetti, giovanissimo terramano, musicista, compositore e polistrumentista, che porterà un lavoro per la creazione di un soundscape che poi potrà essere utilizzato anche per l'avvenire, per vivere Castelli, per vivere questo Borgo. Con Arti e Spettacolo, che invece è una realtà consolidata aquilana, che già l'anno scorso ha dato prova di aver giustamente interpretato quello che è il sapore di questo progetto, cioè ovvero quello proprio di interpretare la memoria di Castelli affinché non vada persa e affinché possa essere, anche possa avere un sapore più attuale, più vicino alle nuove generazioni. E poi c'è la proiezione del cortometraggio Ratafia, che è stato registrato durante la residenza artistica dell'anno scorso ed è stato poi elaborato durante tutto l'anno. E anche lì è una nuova interpretazione di questa storia, che è ormai un binomio imprescindibile di questo Borgo, quindi la storia della ceramica e tutte le fasi della produzione reinterpretate attraverso corpi, suoni e parole. Questo progetto poi naturalmente continuerà a settembre, quindi ci saranno i laboratori urbani di comunità che vengono aperti, inaugurati. Aprirà i lavori Lucio Argano, uno dei più grandi esponenti della progettazione culturale delle città italiane. E poi proseguirà contestualmente, ci sarà una raccolta fondi, proprio perché ci apriamo già al 2023. Quindi mi pare di capire che va un po' in quella direzione che anche l'amministrazione ha tracciato già da tempo per ripopolare e riconsiderare il Borgo in provincia di Terra. Assolutamente. Noi abbiamo fatto un esperimento l'anno scorso, che ha funzionato, anche artisti di altre discipline, ma anche artisti di altre generazioni, giovanissimi, o di altre culture, che aveva avuto anche diversi stranieri, hanno attecchito su quella che è poi la produzione artistica castellana, perché di fatto l'artista viene contaminato da ciò che succede intorno a noi. E quindi è su quella linea che vogliamo muoverci. Continuare le residenze, continuare ad ospitare artisti, affinché gli artisti si sentano onorati di poter produrre all'interno di questo Borgo meraviglioso, che già è motivo di grande ispirazione per loro. E nello stesso tempo costruire una comunità accogliente che partecipi insieme a noi a questo percorso di ricostruzione.